Grazie per averci invitato, per averci invitato, abbiamo accolto il vostro invito. Allora, ci vuoi parlare di questo tipo di sport, anzi il sport è un momento di aggregazione. E' una semplice passeggiata, indice che chi lo può perfeccurare. L'appuntamento è un luogo, ultimo ecco di sera, in piazza Roma, alle 21.30, adesso va avanti da quattro anni. C'è l'altro visto che siete i pareti, ci sono sia uomini che dormi, è il percorso. Tengo conto che molti di noi la bici la usano anche durante la giornata, cioè questo è il momento in cui si celebra tutti insieme, questo è il piacere di andare così. E la possibilità di soffrire e di utilizzare la bici durante la giornata? Uno dei più obiettivi dell'Università è proprio quello, cioè di far sì che sempre più gente possa usare la bici come produzione ecologica, come alternativa a metromobili, che sono delle, chiaramente, molto più limitanti. I clienti, ovviamente, i clienti. Allora, il vostro gruppo si chiama Critical Mass. Critical Mass. Ma dove avete preso questo nome? Il titolo non è stato nostro, perché il nuovo evento è nato negli Stati Uniti, oltre dieci anni fa, e poi si è diffuso il nostro vicino città in tutto il mondo. Cominciamo a riuscirci alle 22.30, che vuol dire che partiamo alle 22.10, diciamo, con il solo bene. Mi c'è tutta confidenza, è tutto grafico, perché sono anche uomini. Come ti trovi da tutti questi... Non posso rilasciare di cazzo lì, perché è presente il marito. Allora, abbiamo anche un medico tra di noi, un medico che si indica uno sport, anzi, è la passeggiata notturna, quindi uno sport, direi che è relax, relax, andare... E promuovere l'attività motoria. Esatto, a proposito dell'attività motoria, volevo rientrare sul bicicletto. La bicicletta aiuta a... Ancora, per esempio, la circolazione, è socializzata. Ancora, l'attività... Ancora, la bicicletta aiuti... Ancora, l'attività... Ancora, l'attività... Ancora, l'attività... Ancora, l'attività... Grazie a tutti.